Grotte e questo si chiama il graffè, un graffè, un graffè, un graffè, un graffè, no a quest'ora no. Vuoi un graffè? Graffè, un buon, un buon, un buon. Va bene, ehi, stai, 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 stai pronta lei? Sei pronta, siete cariche? Siete cariche, non lo sa l'altro. Ok, ora facciamo una discesina giù, va bene? Sì, ok, ciao, tutti pronti. Un bel filo, un filotto, beh, allora ora facciamo la rossa, dai, qua ci siamo riscaldati. No, 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 ok, pronti? Via, corna rossa, sulla corna rossa. È uscito anche il sole in questo bel tramonto. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. No, non così, non così. Ci si ferma di lato e uno dietro l'altro. No, no, vedete? Vedi Lu? Ecco le tre cuginette che scendono. Camilla con il caschetto giallo tutta rossa. Poi c'è Chiaretta. E arriva Luisa. Forza, curva un po'. Vai a giocarlo, prosegui. Vai Fra. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Proseguita. Eccola lì. L'ho superata neanche la fine, non ci siamo accorti. Vai. Ragazzi, andiamo, va. Eccoli là, tutta rossa, caschetto giallo, Camilla. Poi c'è Chiaretta. Luisa dietro come un missile. Continuate, continuate, continuate. Francesca. Francesca. Yuhuuu. Eccola. Francesca. Yuhuuu. Eccola. 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 Sì 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 Sì